buona giornata buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv cominciamo insieme la giornata dando un'occhiata ai giornali Corriere Adriatico e il resto del Carlino sulle pagine locali a partire però dall'almanacco del giorno per vedere qual è il santo che si festeggia oggi è una santa eccola qua è Sant'Emma di Sassonia sorella di San Menginberco anche fratello era un santo vescovo di Paderborn rimasta vedova giovanissima Emma invece di risposarsi era giovane era bella quindi aveva anche un buon patrimonio poteva trovare tranquillamente un marito si dedicò alla preghiera e alla carità distribuì il suo patrimonio ai poveri e morì e la stessa povera dopo aver dato tutto quello che aveva insomma uno spirito evangelico messo in pratica e quindi questo le ha dato poi la santità è stata dichiarata santa Sant'Emma di Sassonia è poi un nome che si propaga ancora oggi oggigiorno insomma è un nome e quindi festeggiamo festeggiamo diciamo buon compleanno a chi ha questo nome Emma di Sassonia vediamo ora le previsioni del tempo il tempo è in graduale miglioramento su tutta la regione Marche con schiarite anche ampie tra il pomeriggio e la sera i venti sono deboli moderati da una tensione da nord nord ovest sulle coste e da est nell'entroterra le temperature sono in calo 7 la minima 15 la massima il mare è il mare leggermente mosso e il sole il sole è sorto già sorto alle 6 e 17 e tramonterà alle 19 e 55 con questa prolusione diamo un'occhiata ai giornali partiamo ora dal resto del carlino e vediamo l'articolo di apertura dedicata all'estate e beh insomma il tempo in aprile è un po' pazzarello abbiamo visto come le giornate si sono alternate con schiarite cieli nuvolosi piogge e anche un po' il calo della temperatura ma l'estate è alle porte insomma non siamo lontani ebbene i baglini sono già all'opera per mettere a disposizione curare le loro concessioni balneari però insomma sulle loro spalle incombe una spada di Damocle e che cos'è questa spada di Damocle? è la normativa Bolkestein che mette a bando a gara le loro concessioni e questo ovviamente impedisce che si facciano investimenti a lungo termine Bagnini all'opera il 25 aprile si dovrebbe partire in realtà la stagione ufficialmente parte il primo maggio così come ha decretato la regione Marche però c'è l'incubo Bolkestein non tutti riusciranno a finire in tempo i lavori il rischio è che qualcuno sia pronto solo il primo maggio ma il primo maggio è la data canonica di inizio di stagione ovviamente all'inizio si metteranno solo pochi ombrelloni che poi aumenteranno via via con l'innoltralci verso la bella stagione lavori in corso dunque su tutto il litorale e ad accumulare l'attività di tutti i concessionari balneari c'è un po' un certo immobilismo insomma si sta un po' a guardinghi si sta a guardare che cosa farà il governo poi se osserverà o meno la normativa Bolkestein che veramente da lungo tempo ormai costituisce un problema per tutti i Bagnini ma è molto interessante anche l'articolo di Spalla che pubblica oggi il resto del Carlino allo stesso articolo il Corriere Adriatico poi dedica l'apertura ebbene questo articolo è dedicato alla seduta del Consiglio Comunale molto molto animata che si è svolta ieri sera dopo che la precedente era stata sospesa per l'impasse provocata dalla osservazione anzi dalle osservazioni sull'ex zuccherificio che vogliono che si elimini la previsione di un polo logistico alimentare e soprattutto si vieti l'installazione di aziende considerate nocive alla salute quelle che potrebbero procurare dei danni con i loro effluvi alla salute umana la salute non è negoziabile e la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Agnese Giacomoni si dimette si era già dimessa la sera precedente dopo la fine della riunione che si era svolta tutto ieri si è cercato di farle cambiare idea ma lei è rimasta della sua idea è appena iniziato il Consiglio Comunale per protesta contro appunto la intenzione della Giunta di approvare la contradduzione che respinge l'osservazione dei residenti di Madonna Ponte presentate per evitare che l'ex zuccherificio si trasformi in questo polo logistico ebbene lei si è dimessa ha rinunciato al suo ruolo al suo posto è stato nominato Federico Perini e poi c'è stato veramente tanti colpi di scena ieri sera c'è stato ancora l'intento di rinviare di sospendere la seduta c'è in ballo un ricorso alla magistratura da parte dei residenti di Ponte Metauro per evitare che appunto questa zona si trasformi in una zona problematica perché poi un polo logistico richiamerebbe un flusso molto molto intenso di camion e quindi un andi rivieni polveri sottili pericoli per le strade lì vicino c'è la spuola dei cioraggi c'è anche la nuova piscina nuotiamo quella che è stata realizzata dalla fondazione Carifano ed ora gestita dall'amministrazione comunale data in gestione appunto ad una società ad un insieme di associazioni ebbene anche lì il problema del traffico perché poi si parla si parla di 50-100 camion però insomma qualcuno sospetta che siano di più questi camion questi mezzi che dovrebbero appunto rifornire e poi spostarsi dal centro logistico nel caso specifico però è ritornata alla ribalta il problema della approvazione del voto dei consiglieri che cosa votano i consiglieri votano la controdeduzione all'osservazione che ha effettuato l'ufficio urbanistica un cittadino presenta la sua osservazione e dice non vogliamo che l'ex zuccherificio si trasformi in un polo logistico l'ufficio dice no questa osservazione è da respingere il consiglio comunale cosa fa? approva solo la controdeduzione non può quindi approvare o disapprovare l'osservazione perché questa è già stata valutata dall'ufficio urbanistico un procedimento contorto che limita un po' la discrezionalità degli stessi consiglieri e per questo in consiglio c'è stata una gran maletta anzi direi dire una burrasca ed ora cambiamo argomento e vediamo le altre notizie bellocchi qui siamo in un episodio di cronaca bellocchi bus e non solo retate nei punti di spaccio c'è stata un'azione di controllo molto determinata dagli agenti del commissariato di Fano che hanno passato al setaccio le zone calde della città dove si svolge il mercato della droga spunta anche il mercato delle tessere sanitarie con le quali i minorenni possono così prendere dai distributori automatici le sigarette perché altrimenti quelli di sotto di 18 anni non potrebbero farlo comunque spunta un nuovo mercato della droga siccome a Fano nel centro storico le zone del Pincio le zone di Piazza Amiani sono tenute sotto costante controllo dalle forze dell'ordine sembra che buona parte del mercato si sia trasferito in periferia in modo particolare nella prima strada di Bellocchi e proprio qui gli agenti hanno fermato quattro dei sedici giovani segnalati nel weekend al prefetto quali nuovi consumatori di sostanze stupefacenti ciò non significa però che non permanga il problema del Pincio della stazione di Piazza Amiani della Rocca doveppure sono stati intercettati pusher e consumatori con 35 grammi di sostanza vedete come a Fano ancora il mercato della droga è ancora particolarmente attivo e soprattutto e questo è il dato più preoccupante coinvolge molti molti giovani adesso si ripolisca la ferrovia Fano Urbino ebbene il prefetto della provincia di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco su input del segretario dell'Udc Stefano Pollegioni ha scritto un'altra volta alle ferrovie dello Stato per procedere alla pulizia della ferrovia Fano Urbino della tratta dismessa di questa ferrovia che con il degrado poi siamo in primavera quindi la vegetazione comincia a essere rigogliosa copre i binari invade un po' anche la massicciata insomma costituisce un rifugio anche per animali nocivi e questo ovviamente costituisce un degrado per cui le ferrovie rispetto alla manutenzione di questa tratta quindi devono intervenire poi vediamo anche un articolo di Spalla che riguarda un nuovo esercizio che è stato realizzato dal pesce azzurro nella zona di Ponte Metauro si chiama Pesciutta ed è un negozio dove si vende pesce cucinato da asporto e si può consumare anche in loco nuovo look per il campo di Calcinelli sarà pronto per l'inizio del campionato l'investimento sarà di 80.000 euro le società potranno servizi dell'impianto in tempi utili questa è una bella notizia veniamo ad Urbino a Urbino si è presentato il piano per le emergenze la protezione civile ha presentato la strategia da seguire a seguito di eventuali catacchilismi ebbene sono state individuate pensate anche delle zone climatizzate da usare in caso di troppo caldo quando il caldo si fa oppressivo e causa anche alcuni malori ebbene la gente viene trasferita in alcune zone più ventilate più fresche dove può insomma respirare maggiormente e acquistare quel benessere che magari grazie all'umidità al caldo l'oppressione aveva perso dove si trovava gli altri scenari possibili sono terremoti esondazioni incendi boschivi neve rischio idrogeologico e per una piccola parte del territorio anche il pericolo connesso alle dighe insomma anche qui sappiamo che cosa accade quando piove intensamente i corsi d'acqua si ingrossano in maniera eccessiva e anche le dighe possono costituire un pericolo vediamo ora la pagina di Pesaro che cosa anzi pensiamo sì pensiamo la pagina di Pesaro dove c'è la novità per quanto riguarda la variante la variante di Largo tre martiri che è stata approvata questa è la notizia dal consiglio comunale nonostante le proteste del comitato green di Soria Soria la variante passa la rabbia dei residenti vergognatevi hanno detto in consiglio e poi sono usciti dall'aula consigliare ebbene la maggioranza con 17 voti favorevoli e 8 contrari ha approvato questa variante l'avvocato Cipolletta del comitato Soria Green giunta in imbarazzo ha detto continueremo noi a lottare e la seconda raccolta di firme è già quota a 300 firme ma ovviamente aumenteranno i cittadini continueranno dunque a lottare con ogni mezzo a disposizione tanto è vero che è ripresa l'azione di sensibilizzazione di tutti i residenti e fanno una raccolta una seconda raccolta di firme la deriva dicevo è passata con 17 voti favorevoli della maggioranza di governo e gli 8 contrari della minoranza vedremo poi come tratta l'argomento il Corriere Adriatico che riserva l'apertura della pagina di Pesaro proprio su questo argomento giriamo la pagina e parliamo di questo episodio che sta suscitando insomma un certo scalpore è quello di un prete di un prete di Don Pelizzari che è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di un minorenne e questo non è l'unico addebito che viene fatto al religioso ma sembra che sia stato anche imputato di appropriazione indebita Don Pelizzari il prete che studiò da idraulico e fece ammanchi in due parrocchie svizzere il sacerdote è al centro dell'inchiesta su reati sessuali e fu condannato e poi sospeso dalla diocesi anche per appropriazione indebita e insomma è una vicenda complessa questa che ha subito suscitato la reazione della diocesi di Pesaro su input di quella svizzera il vescovo Salvucci ha subito attivato gli organi competenti e quindi tutta questa situazione ora viene valutata dalla magistratura cambiamo argomento e parliamo di un argomento più leggero vediamo come l'enogastronomia è sempre la ribalta sui giornali perché quando si mangia bene insomma si ha un certo sollievo una certa così allegrezza anche fisica ebbene pasticciata stoccafisso tagliatelle cosa sono? sono tre piatti della tradizione marchigiana e oserei dire anche della tradizione pesarese e questi tre piatti hanno ottenuto la decò di Pesaro cos'è la decò? è la denominazione comunale che ormai caratterizza e valorizza e valorizza anche questi tre piatti che sono proprio i piatti tradizionali quando un turista viene nella nostra provincia nel nostro territorio ebbene mangiando pasticciata stoccafisso cucinato con le patate magari e con le ricette tipiche della tradizione e poi le tagliatelle che sono un piatto ormai tra Marche e Romagna ed Emilia sono veramente il non plusulta dell'Italia centrale e qui viene per mangiare bene e veramente si mangia bene giriamo ancora la pagina e vediamo quella che riguarda quella che riguarda sì questa qua il bosco che cammina in piazza arbusti e alberi alti fino a 6 metri un argomento di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi domani arriva la prima tappa dell'iniziativa che regala il verde in città dove manca 60 volontari per spostare 100 piante ed ecco appunto il bosco che cammina nel centro storico di Pesaro questo per quanto riguarda il resto del Carlino diamo un'occhiata ora al Corriere Adriatico vediamo subito l'apertura che fa Fano quella dedicata con un'intera pagina al Consiglio Comunale di ieri dove viene appunto trattata con grande attenzione tutti tutti gli sviluppi di questo Consiglio un Consiglio Comunale importante perché perché si è parlato della soluzione di un problema annoso quello dell'ex zuccherificio dove da vent'anni trent'anni ormai diciamo vent'anni rimangono quegli scheletri di capannoni che certo offrono uno spettacolo degradante a chi passa perché poi lì c'è anche una deviazione quindi il traffico di scorrimento passa proprio in via laterale all'ex zuccherificio comunque le osservazioni che hanno presentato l'associazione Lupus in Fabula e i residenti di Madonna Ponte sono state bocciate perché presentate con un parere da respingere da parte degli uffici dell'urbanistica ebbene ma c'è stata però un bel contrasto in Consiglio Comunale con l'opposizione ma non solo l'opposizione anche alcuni componenti della maggioranza che si sono mostrati contrari a respingere queste osservazioni però il loro voto verteva soltanto sulla controdeduzione e quindi nulla hanno potuto fare nei confronti dell'osservazione comunque la controdeduzione è passata per il rotto della cuffia a maggioranza e quindi continuerà il polo logistico almeno per il momento poi vedremo che cosa accadrà nella prossima tornata amministrativa continuerà la definizione del polo logistico alimentare nell'ex zuccherificio e poi le turbative all'interno del partito democratico ormai sono note si è dimessa la capogruppo Agnese Giacomoni addirittura in questo articolo pubblicato di Spal si dice che in maggioranza sono stata insultata lei con Lucioli che è un altro consigliere comunale che addirittura non si presenterà più in consiglio così sembra per protesta mentre lei ha declinato il ruolo di capogruppo insomma non rappresenta più il gruppo ma rappresenta una sua posizione personale così come poi hanno votato contro anche Carla Luzzi di Incomune che fin dall'inizio aveva detto insomma così come aveva fatto con la variante dei padri trappisti a Montegiove insomma che lei aveva dissentito dalle decisioni di giunta aveva detto fin dall'inizio che sull'ex Zucco edificio lei non avrebbe votato favorevolmente trovati due minori nella sala scommesse 16 giovani avevano con sé stupefacenti ebbene quello dei due minori rientra sempre nei controlli di cui prima abbiamo parlato fatti dal commissariato a Fano sia in centro che in periferia e il proprietario di questa sala scommesse che non doveva far entrare i giovani minorenni dovrà pagare un'ingente multa 6.700 euro questa è la sanzione che gli viene imputata e poi tutti i problemi della droga di cui abbiamo parlato e la reazione dei giovani e la reazione scusate delle forze dell'ordine Carnevale concluse le riprese del film di Lodovichetti siamo veramente impazienti di vedere quest'opera Lodovichetti è il noto regista di Pescamare quindi ha fatto un'opera veramente bellissima che ha vito tanti tanti premi a livello internazionale e siamo sicuri che anche il docufilm sul Carnevale sarà un'opera prestigiosa e siamo veramente ansiosi di vederla e poi anche il Corriere pubblica l'articolo di Pesciutta così si chiama il nuovo esercizio realizzato aperto ieri inaugurato dal Pesce Azzurro nella zona di Madonna Ponte nella zona artigianale di Madonna Ponte Pesciutta è una combinazione di due parole siccome di solito si mangia la pasta asciutta ma in questo caso c'è il sugo di pesce allora è venuta fuori la parola pesciutta perché insomma anche la pasta asciutta con un sugo di pesce è molto buona e poi lì i sughi di pesce sono veramente tanti quindi la gente può scegliere con cosa condire questo primo piatto passiamo a Fossombrone le benemerenze per il lavoro di due maestri e storici locali alle 18 in consiglio comunale verrà dato il riconoscimento a Renzo Savelli ed Emilio Pierucci il consiglio comunale è stato convocato alle 18.30 in forma solenne per consegnare queste due benemerenze cittadine Renzo Savelli e Emilio Pierucci nella stessa pubblica sise di un anno fa il voto era stato unanime sulla sull'assegnazione di questi riconoscimenti firmatario era stato il vice sindaco Michele Chiara Billi a Mondolfo canone rifiuti da aggiornare in comune coinvolge un legale ma c'è un contenzioso con la società Onofaro che Onofaro che gestisce il servizio e sembra che il vurnus sia costituito dalla valutazione dell'indice Istat insomma non ci si trova d'accordo vediamo non abbiamo la pagina di Senigallia ora sulla edizione della provincia di Pesaro del Corriere Adriatico abbiamo però una pagina di Ancona che evidenzia una notizia di cronaca piuttosto truce disabili segregate abusate picchiate arrestata la moglie del volontario orco che avrebbe anche abusato di queste malate botte alle malate mentali la settantotenne ai domiciliari ha tirato una donna per l'orecchio fino a lesionarlo addirittura pezzi di pelle venivano via veramente un caso molto molto triste e drammatico volevo farvi vedere anche questo articolo sul Corriere Adriatico che riguarda un problema regionale ma è molto molto presente nella nostra provincia si tratta delle liste d'attesa e così i marchigiani rinunciano alle cure ebbene un quadro preoccupante è stato delineato nel rapporto BES dell'indice Istat la principale causa per la quale i cittadini non hanno fatto visite e controlli necessari è legata ai tempi troppo lunghi per ottenere le prestazioni e questo è un studio di cui la regione Marche dovrà tenere ben presente per la programmazione almeno dell'atto aziendale per rivoluzionare per riqualificare l'assistenza sanitaria nel nostro territorio e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani sempre alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti